La non violenza è la via della pace, non quella proclamata a parole, ma di fatto negata perseguendo strategie di dominio. Lo ha detto Papa Francesco, ricevendo in Vaticano gli ambasciatori non residenti accreditati presso la Santa Sede di Burundi, Fiji, Maurizio, Moldavia, Svezia e Tunisia, in occasione della presentazione delle lettere credenziali. Il Papa ha presentato ai diplomatici il suo messaggio per la prossima giornata mondiale della pace, da poco pubblicato, e che ha per tema la non violenza stile di una politica per la pace, ricordando che la non violenza è un esempio tipico di valore universale, che trova nel Vangelo di Cristo il suo compimento, ma che appartiene anche ad altre nobili ed antiche tradizioni spirituali. In un mondo segnato da guerre e da una violenza diffusa, che si manifesta in diverse forme nella convivenza ordinaria, ha spiegato il Pontefice, la scelta della non violenza come stile di vita diventa sempre più un'esigenza di responsabilità a tutti i livelli. Si tratta di respingere la violenza come metodo di risoluzione dei conflitti e di affrontarli invece sempre mediante il dialogo e la trattativa. Nel secolo scorso, tra grandi guerre e genocidi, ha chiarito il Papa, possiamo però ricordare alcuni esempi luminosi di come la non violenza, praticata con coerenza, possa ottenere importanti risultati anche sul piano sociale e politico. Alcune popolazioni, anche intere e nazioni, grazie all'impegno di leader non violenti, hanno conquistato traguardi di libertà e di giustizia in maniera pacifica. Questa è la strada da seguire nel presente e nel futuro. Questa è la via della pace, non quella proclamata a parole, ma di fatto negata perseguendo strategie di dominio, supportate da scandalose espesse per gli armamenti, mentre tante persone sono prive del necessario per vivere. Grazie. 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 Grazie.